Deve partire tra pochi secondi. Ecco infatti, è partita la registrazione. Intanto vi chiedo scusa per non aver ancora caricato quella della settimana scorsa, soltanto che le situazioni sono un po' intrigate in questo momento per quanto riguarda l'ambiente sportivo, come potete immaginare, e siamo stati un po' incasinati per motivi di tipo agonistico, per capire quali sono gli sviluppi statali per quanto riguarda le obbligazioni che avremmo da dover sostenere per poter eventualmente proseguire l'attività sia giovanile che quella della prima squadra. Detto questo, credo che tra oggi e domani di mettere fuori il video, nel senso che dovrò ancora leggermente tagliarlo, sistemarlo, e poi fatto quello dovrei caricarlo sul canale YouTube, e quindi dovrebbe essere disponibile il link, diciamo, a ore. Ecco, mettiamola così. Poi, altra notizia, altra situazione di servizio, sto preparando dei documenti di appunti per quanto riguarda le varie call, le inizio a rendere disponibili, caricherò anche quelle, così avete anche un formato testo, che se per qualcuno può essere più fruibile rispetto al formato video, magari può sostenervi per quanto riguarda l'apprendimento, per quanto riguarda il, diciamo, la facilità e la fruizione delle informazioni, ecco, magari anche in maniera un pochino più schematica. Poi magari mi darete dei riscontri se la cosa può esservi utile, se può esservi di aiuto, di supporto. Comunque, renderò tutto disponibile, credo, entro la prima metà di questa settimana, sia la call della settimana passata, sia i documenti che stiamo realizzando anche in collaborazione con la professoressa Coppo. 10.38, direi che possiamo iniziare a parlare della lezione di oggi. La lezione di oggi la divido in due grandi macro aree. La prima macro area sarà un'area più metodologica, dove ci addentriamo su quelle che sono le tematiche dello sport giovanile. Quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza, cerchiamo di capire un po' di differenziazioni che sono insite nello sport a livello giovanile rispetto a quello seniores, dove stanno le differenze, che a volte sono marcate, nel senso che nella nostra testa dovrebbero essere marcate, ma poi non abbiamo così in via chiara, lampante, il problema quando dobbiamo affrontarlo sul campo. E ci troviamo a trattare magari quelli che sono i giovani atleti come se fossero degli atleti formati ma in miniatura, che in realtà non è così. E cercheremo di capire per le varie facilità quali sono le situazioni di interesse principali da dover monitorare e ovviamente da dover andare ad esaltare per vari tipi di motivi. Nella seconda parte della lezione, sempre tramite supporto di video e di immagini come abbiamo fatto nelle passate settimane, cercheremo di addentrarci su quella che è la correlazione tra il servizio e il bagger di ricezione, cerchiamo di capire che cos'è, in maniera molto, diciamo, più inerente e standardizzata per quello che è il modulo della... il modulo pallavolo dei giochi sportivi che dobbiamo comunque affrontare. Allora, condivido il mio schermo. Per favore al solito mi dite se vedete. Vedete la presentazione? Ok, grazie. Perfetto. Allora partirei. Benissimo. Ok, se poi arriva ancora qualcuno lo faremo entrare. Benissimo. Allora, questa è una puntualizzazione che mi sento di fare e l'ho riscontrata direttamente sul campo questa settimana dove abbiamo una grossa differenza tra quello che è l'allenatore federale, quindi, diciamo, chi viene formato direttamente dalle federazioni di interesse per quello che è lo sport di interesse rispetto a un allenatore che deve essere formato come dottore in scienze motoriche. e in questo frangente fondamentale mi preme sottolinearvi che nel nostro sport, ma in generale penso di poter accomunare tutti gli sport e magari qualcuno di voi potrà darmi dei riscontri differenti, la squadra non è soltanto un insieme di fondamentali. inteso come non siamo soltanto persone che devono indottrinare dei fondamentali a dei giovani atleti perché non è quello ci ritroviamo se no ad avere dei soldatini che sono bravissimi magari a gestire tecnicamente alcuni tipi di situazioni i fondamentali li conoscono benissimo però poi non sono capaci di performare o perlomeno non li costruiamo delle skills che poi sono delle soft skills che devono assolutamente essere centrali e determinanti per poter far crescere e trasformare il giovane atleta in un atleta senior sformato in grado di competere. Non è che se siamo capaci nel caso specifico della pallavolo di fare un bugger di fare un palleggio di fare un attacco allora automaticamente se tutti i componenti della squadra sono in grado di farlo siamo una squadra. Non è così abbiamo bisogno di avere una visione d'insieme abbiamo bisogno di capire quale è la visione globale ed integrata del problema quindi capire quali sono le correlazioni cosa succede tra fondamentale e fondamentale che cosa c'è tra diciamo ogni ogni tocco di palla cioè quindi tra la qualità di ogni singolo atleta di trattare al meglio l'attrezzo nei vari giochi sportivi fino a che sia un'interazione con un proprio compagno di squadra oppure viene affrontato da un altro da un avversario ma la cosa importante è poi avere la visione globale quindi certo che devo essere in grado di gestire il fondamentale però poi devo essere in grado di avere delle skills di base che mi permettano di applicarlo leggendo le varie situazioni e per fare questo ho bisogno di costruire delle abilità nel cammino nella progressione di quello che è l'iter diciamo di crescita degli atleti per poter farsi di averle disponibili alla gestione nella fase poi tecnico-tattica che poi diventerà quella agonistica che poi diventerà quella delle partecipazioni alle competizioni perché se no siamo assolutamente diciamo dei bravissimi soldatini ad eseguire dei fondamentali specifici ma poi di fatto non siamo in grado di metterli insieme correlarli sia tra compagni di squadra sia ad applicarli in condizioni di stress agonistico sia metterli al servizio poi di quello che dovrà essere un risultato e ovviamente parlo a tendere è ovvio che in certi frangenti e adesso entriamo nel dettaglio per quanto riguarda l'attività giovanile questo diventerà una fase secondaria ma allo stesso tempo il punto focale non è non è neanche per le per le per le categorie giovanili costruire fondamentali ma costruire abilità è qui che sta la differenza clamorosa tra quello che è un allenatore di tipo federale e un dottore in scienze motori è qui che noi ci giochiamo la differenza è qui che noi dobbiamo andarci a prendere il mercato dobbiamo fornire una visione assolutamente globale del problema e saperla condurre in maniera regolare esplicita metodica sostenuta da quelle che sono tutte le competenze che costruiamo che costruiremo in maniera da poter far sì che il giovane atleta diventi non un giocatore ma diventi appunto un atleta questa è una frase di uno dei più grandi tecnici della storia italiana l'allenamento è un'arte che si basa sulla scienza ed un allenamento senza valutazione è come un itinerario senza meta sapete chi è Carmelo Bosco? Qualcuno di voi conosce qualcosa di Carmelo Bosco? a parte intanto è l'inventore dei test di Bosco qualcuno conosce i test di Bosco? mi date un cenno in chat una risposta a microfono quello che sì? ok perfetto non conoscete non conoscete Erika non conosce i test di Bosco? non sapete non sai di cosa stiamo parlando? parla tranquillamente non è non è una una critica assolutamente però per 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 esplicarti rapidamente chi è questa persona ci sono altri no ok non lo sapete allora rapidamente i test di Bosco allora Carmelo Bosco ah l'avete studiato qualcuno l'ha studiato ok va bene dai facciamo un rapido escursus per chi non non sa di che cosa stiamo precisamente parlando beh intanto il test di Bosco diciamo che che ha esatto sì sono test sui salti corretto ma attraverso questa diciamo su questo studio dei salti sull'elevazione sulla capacità di applicare una forza nei vari test Carmelo Bosco ha iniziato a fare dei riscontri delle ipotesi estremamente accurate che poi si sono rivelate molto 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 azzeccate soprattutto correlate al periodo storico in cui lui lavorava e ovviamente non aveva a disposizione quelle che sono le le nostre possibilità possibilità intendo dire tecnologiche ha iniziato a ipotizzare delle cose estremamente centrali importanti su quelle che potrebbero che poi si sono rivelate delle delle realtà ormai diciamo prese come assiomi assolutamente come centrali e verificate da tutti gli studi scientifici che vengono praticamente applicati quando parliamo di test di salto parliamo dello squat jump quindi lo squat jump è molto semplicemente una un salto uno squat jump gestito in maniera unicamente con la contrazione unicamente solo concentrica quindi soltanto si parliamo di fatto di una di una partenza libera da parte dell'atleta che prova la sua massima elevazione spingendo partendo dalla condizione di flessione di 90 gradi delle gambe 90 gradi o quella che più consona per lui e prova ad esprimere la sua massima potenza di salto il contro movement squat jump quindi la partenza gambe estese caricamento e risalto il repeated contro movement squat jump che sono dei salti ripetuti dove veniva misurata appunto la capacità elastica dei sistemi lo stiffness che sono appunto anche in questo caso dei 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 balzi a diciamo soltanto chiamiamoli volgarmente soltanto di caviglie poi eventualmente posso anche mostrarvi alcuni video non è un problema però questa cosa qui al di fuori dei test di per sé la cosa che Carmelo aveva già ipotizzato era la capacità di discriminazione tra l'applicare forza applicare forza su un'unità di tempo quindi portarci tra dal livello di forza a livello di potenza fondamentale per il concetto di sport ipotizzando alcune situazioni per quanto riguarda le le rifrazioni elastiche dei tendini e in questo suo frangente è stato un super precursore è stato il primo a parlare di tempo di accoppiamento cioè la capacità del sistema di invertire un'accelerazione e proporre forza e potenza nell'altro nella direzione inversa probabilmente in questo momento magari per voi è una situazione confusionaria è più facile se guardiamo dei video poi eventualmente se è di vostro interesse possiamo anche approfondire però per dargli la caratura del personaggio lui è stato il primo italiano ad essere assunto alla NASA quindi negli Stati Uniti d'America per una cifra adesso non ricordo se è una cosa tipo un milione no un miliardo di lire o due miliardi di lire quindi insomma ai tempi una cifra astronomica per lo studio di quella che poi è stata e che poi diventerà la la pedana la pedana vivante sussultoria per lo studio del della demineralizzazione dei tessuti ossei degli astronauti quindi parliamo di uno scienziato di livello altissimo comunque nel caso vi interessino dei dettagli su questa su questo personaggio posso darveli in separate sede comunque per dirvi questa persona di assolutamente di assoluto valore scientifico aveva già questa visione qui sicuramente l'indagine ha un che di artistico si basa su una scienza però sicuramente se noi non siamo in grado di valutare noi non sapremo dove dirigere il nostro intervento per ottenere quello che è il miglioramento che ovviamente ci aspettiamo e qui ci addentriamo su quelle che sono le le prime grosse differenze abbiamo giovanili rispetto agli atleti di tipo signore se abbiamo priorità diverse necessitiamo di analisi necessitiamo di una strategia necessitiamo di metodologia e poi ovviamente dobbiamo essere in grado di verificare i risultati ottenuti eventualmente poter verificare che la bontà o l'erroneità del nostro percorso dobbiamo poter fare delle verifiche in maniera che quello che ci auspichiamo come aggiustamento e poi come adattamento dei corpo avvenga o meno se parlo di aggiustamento e adattamento muscolare o adattamento dell'allenamento che cosa qual è la differenza tra aggiustamento e adattamento lo sapete qualcuno me lo spiega anche a microfono non c'è bisogno di scrivere ragazzi qualcuno che si butta dai siamo in tanti nessuno vi vede nessuno sa chi siete però mettersi in gioco dai aggiustamento del corpo quando lo sottoponiamo uno stimolo o adattamento quali sono le differenze secondo voi a livello di tempistica può essere no si a livello di tempistica si ma che cosa mi porti un esempio che cosa succede per esempio che l'aggiustamento lo vedi nell'immediato mentre sta facendo il movimento l'adattamento invece va progressivo nel tempo ok tipo fammi un esempio su che sport fai calcio ok che cosa succede se fai non lo so dammi un esempio aderente al tuo sport vediamo un po' sulla corsa magari che è più facile sì magari l'aggiustamento è che lo sto correggendo durante un esercizio sulla corsa mentre invece per l'adattamento che gli faccio fare esercizi apposta per appunto adattarsi quel tipo di movimento l'aggiustamento e l'adattamento sono riguardanti il soggetto che stiamo trattando che stiamo allenando aggiustamento durante l'esercizio adattamento e nel lungo termine ipertrofia e adattamento Emanuele sì e no nel senso che l'aggiustamento tu intendi dire io do una correzione su una su una determinata esercitazione e lui prova a sistemarsela questo è quello che intendevi? sì ok che cosa succede a livello proprio di risposta del corpo facciamo finta stiamo nel nel calcio allora se faccio fare un un lavoro sugli sprint che ne so quale potrebbe essere l'aggiustamento e quale potrebbe essere l'adattamento qualcuno? ma anche altri eh provare nessuno? no allora ve lo spiego così almeno facciamo chiarezza allora aggiustamento quando parliamo di aggiustamento allora l'adattamento normalmente è chiaro sempre a tutti l'adattamento è quando il corpo a seguito di stimoli ripetuti eh di un certo tipo ci permette di essere più performanti nella direzione degli stimoli stessi esempio eh se vado a correre tutti i giorni probabilmente a un certo punto faccio meno fatica banalmente no? eh se eh faccio pesi tutti i giorni a un certo punto probabilmente diventerò più ipertrofico ovviamente questa è proprio semplicistica no? però senza parlare di metodologie né niente però parliamo proprio di robe di base se eh mi alleno a eh scegliete voi quello che volete tirare le freccette al al bersaglio dopo un po' di giorni diventerò più bravo a centrarlo questo è l'adattamento a medio termine però ci sono gli aggiustamenti del corpo e gli aggiustamenti sono quelli che avvengono nell'immediato durante lo stimolo tradotto se vado a correre tutti i giorni a medio termine diventerò più resistente ma nell'immediato il corpo cosa farà? farà inalzare la frequenza cardiaca farà inalzare la temperatura farà ehm scatenerà l'insorgenza di catecolamine da stress per sollecitare il nostro corpo a essere più performante e via dicendo quello è l'aggiustamento nell'immediato l'adattamento è a medio termine noi abbiamo bisogno di aggiustamenti per arrivare poi agli adattamenti cioè noi finalizziamo l'aggiustamento quindi lo stimolo nell'immediato per portare poi l'adattamento a medio termine quindi eh quando eh l'adattamento l'aggiustamento nell'immediato quando faccio i pesi è che creo l'attato nei distretti muscolari e il muscolo brucia eh quindi l'aggiustamento sono le reazioni che avvengono in risposta allo stimolo nell'immediato Matteo perché poi anche l'adattamento e sono le reazioni è una reazione che il corpo organizza in funzione dello stimolo però l'aggiustamento è quello che passi subito appena incominci a fare un'azione sui pesi eh ti bruciano magari brucia immediatamente il muscolo se non sei allenato quello è un aggiustamento creazione la risposta immediata del dell'attato è un aggiustamento immediato a medio termine ci sarà l'ipertrofia che ti permetterà di spostare più peso che ti permetterà di resistere di più al carico e via dicendo mi sono spiegato è chiaro? c'è qualcuno che non l'ha capito? se non lo ripetiamo a qualcuno non è chiaro? perfetto ah ok perfetto questo è importante dobbiamo saperlo eh dobbiamo saperlo perché se no rischiamo di avere delle come dire aspettative sbagliate applichiamo qualcosa pensiamo di avere una reazione invece la reazione non ce l'abbiamo ma professore io per esempio nella mia palestra ho le le tavole proprio cettive e lì avvengono tutti dei micro aggiustamenti cioè per esempio io sto in piedi con un piede solo no? sì e l'altro invece sollevato cioè sollevo la gamba no? sì e io in quel momento in risposta appunto agli stimoli io faccio dei tutti dei micro aggiustamenti perché appunto la tavola proprio cettiva non è non è stabile no? ok e l'adattamento invece in quel caso lì avviene quando io provandola per esempio ogni giorno riesco a essere sempre più più stabile allora questo è sempre uno dei allora sì sì e no allora l'aggiustamento è in questo caso specifico che mi stai mi stai proponendo eh allora sulla tavoletta proprio cettiva tante volte l'aspettativa è quella che la tavoletta stia ferma in realtà l'obiettivo non è mantenere ferma la tavoletta l'obiettivo è che le pelvi restino parallele rispetto alla linea del pavimento quindi che le risposte avvengano unicamente a carico del distretto inferiore in questo caso specifico che sia monopodalico bipodalico quel che è il primo aggiustamento è mi metto sopra e invece che toccare sempre a destra a sinistra dopo niente anche se lavoro col busto riesco piano piano a mantenere questo stato di disequilibrio ma un disequilibrio che comunque riesco a gestire il grado di adattamento quindi primo aggiustamento busto che si muove e tavoletta che però non tocca ugualmente però è una gestione molto grezza il grado di adattamento sarà nel momento in cui io mi metto sopra la tavoletta si muove ma le pelvi restano perfettamente parallele rispetto alla linea del tronco quindi invece di gestire con degli adattamenti del treno superiore gestirò unicamente a carico dei distretti inferiori la mia instabilità questo è l'adattamento medio termine ah ok grazie ti è chiaro? si 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 grazie perfetto questo è il punto che passa e si può fare come vedete in tutti i casi cioè qualsiasi tipo di stimolo risposta avviene su questo principio un principio in cui c'è una risposta nell'immediato aggiustamento e poi una risposta medio termine che è l'adattamento se non c'è altro procedo e questo diventa poi fondamentale per fare la verifica dei risultati perché? perché se io devo sapere qual è la mia appesa cioè perché sto facendo quello specifico stimolo per avere quello specifico aggiustamento che diventerà uno specifico adattamento ovviamente ritornando a bomba su quelle che sono che è la priorità abbiamo degli obiettivi per quanto riguarda i settori giovanili e dei obiettivi diversi per quelli che sono i settori seniors e abbiamo un'iter d'indagine che diventa oh qui poi mi è scappata una S qua un'iter d'indagine che si differenzia tra i due tipi di atleta quindi abbiamo un atleta del settore giovanile sarà legato alle tappe fondamentali del suo percorso di crescita invece l'attività di un atleta signores sarà legato ai risultati che sono figli sia di obiettivi di squadra sia obiettivi di singoli se parliamo appunto di sport di squadra come nel nostro caso e saranno poi suddivisi in richieste di tipo condizionale o richieste di tipo coordinativo quindi non riesco a fare una prestazione la prima cosa qual è capire se è un problema di squadra è un problema di organizzazione di squadra è un problema sui singoli cioè uno dei singoli della squadra non è in grado di sostenere la performance e se questi obiettivi diversi quindi gli obiettivi di squadra gli obiettivi di singoli non arrivano dove è che dovrò andare a cercare la mia la mia stimolazione per avere l'aggiustamento e l'adattamento a livello condizionale a livello coordinativo è un problema di forza resistenza velocità o è un problema di centralina capacità del sistema nervoso centrale di organizzare rapidamente risposte adeguate a quelli che sono gli stimoli che devo andare a come dire gestire e in particolare poi saranno determinanti per l'obiettivo finale di vincere o perdere capire questa cosa qui è già metà del problema è già metà del problema avere un processo di analisi precisa di capire che cosa devo centrare e la prima cosa è l'attività giovanile è legata a delle fasce di età l'attività per quanto riguarda i seniors è legata ai risultati e poi questa cosa qui nell'attività giovanile sto sviluppando quelle specifiche caratteristiche che dovrebbero essere quelle più importanti durante quella fase quella fascia di età e adesso andiamo a vederle sì no e allora dovrò cercare di stornare il mio lavoro in funzione di quel tipo di idea di metodo se invece parliamo di attività professionistica attività di prime squadre l'obiettivo è quello di vincere e lì bisogna fare poi un'analisi su se è un problema di singoli all'interno del gruppo oppure su un problema di gruppo nel toto e a quel punto lì ci si indirizzerà su degli adattamenti di tipo coordinativo o degli adattamenti di tipo condizionale dobbiamo in particolare prendere in analisi per quello che normalmente sia il vostro itere ma è quello più coerente anche per il profilo di un dottore in scienza motoria quello che le fasce giovanili vi porto questo studio di cui ho parlato con qualche vostro collega la passata settimana questo è uno studio condotto per quanto riguarda l'età di inizio degli allenamenti per partecipanti ai giochi olimpici quindi qui abbiamo la percentuale di atleti per le rispettive discipline sportive e qui l'inizio dell'attività sette anni meno di sette anni sette otto anni nove dieci e via dicendo a crescere guardiamo quali sono alcuni esempi e vedete che le diverse tracce ci danno l'idea di quelle che sono l'età di inizio dell'attività quindi per capirsi guardiamo questo puntino qui questo puntino qua qui significa che allora l'attività e il nuoto il nuoto significa che più del 30% degli atleti partecipanti alle olimpiadi ha incominciato a nuotare sotto i sette anni e potete vedere come tra i sette e gli otto c'è un'altra fetta importante del 30% e poi c'è una deplezione per arrivare ai nove dieci sempre meno sempre meno sempre meno e soltanto il possiamo dire 4-5% non lo so 3% ha iniziato oltre i 16 anni quindi chi è iniziato in maniera tardiva ha la possibilità molto 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 ridotta di arrivare alla possibilità di competere a livello olimpico in questa disciplina specifica parliamo però di discipline estremamente caratterizzanti se guardiamo invece tanti altri sport ad esempio ci sono possiamo dividere almeno in un altro paio di categorie il gioco sportivo e poi la situazione di performance vera e propria vedete bene per esempio come in questo caso la lotta ha un inizio molto molto basso percentualmente su quella che è l'età e sale ovviamente con la capacità di condizionamento dei soggetti se parliamo di invece la stessa cosa avviene per esempio anche sull'atletica leggera molto basso il percentuale di inizio sotto i sette anni per poi crescere se però prendiamo in considerazione dei giochi sportivi nel nostro caso guardiamo quello che è l'oggetto della nostra del nostro modulo quindi la pallavolo forse ho un'altra immagine che aspettate un attimo soltanto che la mettiamo di qua ok che è la pallavolo vedete come le frecce rosse ci indicano quello che sono il tracciato il tracciato ci dà un inizio di specializzazione sportiva cioè gli atleti che sono arrivati alle olimpiadi iniziano l'attività in maniera sensibile diciamo percentualmente quindi intorno al 22 23 per cento no scusatemi qui siamo intorno al 18 19 per cento non prima degli 11 12 anni ma addirittura più del 25 intorno al 22 23 24 per cento quindi quasi un atleta ogni 4 ha incominciato oltre i 16 anni ed è arrivato alle olimpiadi quindi un inizio che è decisamente tardivo rispetto a quelle che sono le situazioni normalmente si incomincia a fare un'attività di specializzazione molto prima dei 15 16 anni direi non è che si incomincia così tardi però come vedete molti atleti nei giochi sportivi arrivano a essere performanti anche se iniziano in maniera tardiva però quello che fa la differenza non è il discorso di quando hanno incominciato ma quelle che sono le il percorso che hanno fatto per arrivare fin lì se guardate qui abbiamo in questa in queste prime diciamo caselline che vi ho evidenziato se guardate abbiamo qui i dati di chi arriverà a fare attività a livello mondiale qui a livello scusatemi nazionale l'atleta di livello mondiale inizierà ad avere un training specifico in quello che diventerà il suo sport in età più tardiva questa è l'età quindi a 11.4 di media rispetto ai 10.2 di media a competere a livello mondiale in maniera più tardiva 13.1 rispetto ai 12 avere un debutto a livello internazionale normalmente un anno dopo se guardiamo quest'altro dato sono il numero di allenamenti condotti prima di 10 anni si è allenato sullo sport specifico di meno rispetto all'attività diciamo dell'atleta di livello nazionale quindi un campione olimpico inizia ad avere un volume di allenamento più alto tardivamente rispetto a quello che diventa un campioncino nazionale tra gli 11 e i 14 anni possiamo dire che la situazione si parifica e tra i 15 e i 18 quindi tardivamente possiamo dire che c'è quello che è l'effettivo sorpasso in questo frangente tra i 15 e i 18 anni l'atleta di livello di categoria assoluta diventa ha un volume di lavoro significativamente più alto rispetto a quello di un atleta di livello nazionale ma qui poi ci sono gli ultimi dati che sono quelli più interessanti guardate cosa succede qui qui parliamo di altri sport quindi altre attività condotte prima di iniziare quella che poi diventerà il main sport quella che diventerà l'attività con cui l'atleta va a competere e vedete come tra gli 11 e i 14 anni abbiamo un volume di attività di altri sport per quanto riguarda l'atleta internazionale estremamente più alto rispetto a quello di quello che diventerà l'atleta di livello soltanto tipo campione italiano invece che campione olimpico e questa tendenza è assolutamente rispettata al crescere dell'età quindi che cosa significa significa che in certi casi anzi è dimostrato come il crescere far crescere quelle che sono le abilità di base del giovane atleta di quello che è il settore giovanile rispetto a quella che il il vero valore diciamo della qualità tecnica specifica dello sport ha un valore intrinseco molto più elevato cioè non è che perché non mi sto allenando sullo sport specifico non sto facendo niente no costruisco delle attività che siano calzanti con l'età giovanile considerata della fascia d'età considerata che però poi più avanti mi permetteranno di essere molto più bravo ad apprendere i fondamentali specifici dello sport quindi non è vero che incomincio ad prima mi incomincio ad approcciare a gestire bene il fondamentale e poi arriverò all'età evoluta e sarò un campione per forza non è vero che devo essere bravissimo a gestire i fondamentali in età precoce per poi riuscire ad arrivare ovviamente il caso del nuoto il caso della ginnastica artistica sono casi a sé perché partiamo proprio di di una di un'attività che ha intanto una longevità molto bassa dura pochissimo un nuotatore ha 20 anni 25 25 anni è vecchio e è comunque un ambiente estremamente ostile quindi ha bisogno sicuramente di avere uno studio e una diciamo un approccio precoce ma per tutto il resto per tutto il resto è molto più importante dare esperienza motoria ai nostri giovani atleti rispetto a quello che è il fondamentale la costruzione del fondamentale stesso poi fondamentali arriveranno e questo non lo dico io come vedete lo dice la scienza e qui dividiamo la vita sportiva di un atleta in 5 tappe fondamentali dove nell'età iperpercoce abbiamo un discorso di scoperta quindi il modello elettivo è quello di cercare di dare più esperienze possibili dove il bimbo può sperimentare dai 16 agli 11 anni la cosa importante è la capacità decisionale cioè dobbiamo iniziare a portare stimoli in quella direzione lì la capacità di discriminare che cosa fare o non fare tra gli 11 e i 14 anni abbiamo quella del periodo della costruzione della specificità atletica che cosa significa significa che qui dobbiamo costruire tutte le skills che serviranno per poi costruire una preparazione fisica tecnica e atletica di livello si dice che ci siano più di 200 fondamentali tra quelle che può essere imparare a fare uno scuoto in maniera adeguata i balzi i balzi ripetuti le andature i livelli di sprint i livelli di che ne so flessibilità tutto quello che vi viene in mente è qui da costruire tra gli 11 e i 14 anni e poi arriveremo soltanto tra i 14 e i 19 alla maestria sportiva cioè una volta che si è fatto tutto il percorso in maniera adeguata step by step si può arrivare a costruire sulle basi delle tappe precedenti quelli che sono i fondamentali sport specifici lasciando ancora leggermente da parte le capacità metaboliche condizionali perché si possono recuperare abbastanza agevolmente nelle fasi poi di consolidamento della performance che l'età in cui in teoria mediamente si costruiscono i risultati mediamente ovviamente qui ricordatevi sempre che le fasce non sono dei compartimenti stagni però significa che in età tra i 19 e i 24 anni con una deviazione standard di 3 4 anni quindi diciamo tra i 21 e i 28 anni si arriva all'apice delle carriere per quanto riguarda la maturazione di tipo tecnico sia per quanto riguarda la maturazione di tipo fisico quindi tante volte ci ritroviamo a accelerare dei processi di apprendimento di alcune specifiche per portare dei risultati ma in realtà noi stiamo penalizzando il futuro dei nostri atleti perché perché è riconosciuto che alcune fasi sensibili che passano non tornano più inteso come questi anni centrali diciamo dai 6 ai 15 anni 14 anni sono quelli in cui riesco ad avere dei riscontri e inserire delle skills che a 14 19 anni sarà complicato poter recuperare non è un segreto non è un segreto che e ve lo dico sul campo perché sul campo ci sono e non assolutamente solo per sentito dire che arrivano in categorie di livello nazionale atleti che hanno la flessibilità di mia nonna ma perché perché normalmente non è stato costruito nel processo nella periodizzazione in quello che l'allenamento in quelle che sono le tappe fondamentali dell'allenamento stesso dei settori giovanili delle skills importanti oppure arrivano atleti che hanno dei fondamentali ottimi però la capacità decisionale è totalmente assente perché hanno costruito soltanto uno stimolo di tipo assolutamente specifico ipercontrollato potete anche andarvelo a rivedere nella scorsa call per quanto riguarda magari la destrezza fine fanno di tutto però sotto il profilo della variabilità non sono in grado di sostenere un bel niente e questo è un problema e qui si ritorna a quello che è l'assunto iniziale che questo 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 qui noi dottori scienze motorie dobbiamo avere una visione d'insieme assolutamente diversa dall'allenatore federale l'allenatore federale è convinto che se inseriamo dei buoni fondamentali vinciamo e invece non è così e la scienza lo dimostra e le pubblicazioni lo dimostrano ok questo è fondamentale poi per quanto riguarda il discorso delle varie tappe di approfondimento per quelle che sono le skills che andremo ad inserire ne parliamo ne possiamo assolutamente approfondire poi caso per caso non è un problema ma essere coscienti in linea generale di questo di questo percorso di questa freccia di questa periodizzazione e già dare una chance a quelli che sono i nostri atleti di crescere e soprattutto di esprimere al massimo il loro potenziale non significa che diventeranno tutti atleti olimpionici ma significa che tu stai seguendo un metodo stai seguendo una logica sensibile e assolutamente adeguata per quello che è un intervento strutturato basato sia su una una parte scientifica sia su una parte di pubblicazione poi vi ricordo sempre che non possiamo dividere con l'accetta le fasce d'età dobbiamo essere in grado di fare delle valutazioni però questa cosa qui deve essere una sorta di traccia non una gabbia però dobbiamo avere chiaro quelli che sono i percorsi e i percorsi questi sono ok questa è la finalità del percorso questo è il progetto che a medio termine deve portarci alla crescita tecnica di quello che è un settore in età giovanile rispetto a quello che è poi un settore signores ok ve l'ho sparato fuori domande dubbi perplessità dormite abbiamo iniziato alle dieci e mezzo oggi è posta per non farvi perché qualcuno mi chiedeva che all'otto e mezzo era presto chiarissimo bene bene svegli è tutto chiaro grazie ok questo è una situazione poi di come al solito pensate a quello che vedete nei vostri settori rispettivi e ragionate ragionate e dite ok ma rispettiamo quelle che sono le capacità e soprattutto le fasi sensibili le stiamo rispettando oppure magari stiamo un po' poi ovviamente attenzione non significa che il percentile è 100% attività di che ne so facciamo un esempio guardando questo percorso 100% di capacità decisionale e a specificità atletica in queste fasce qui durante la fase di allenamento certo che è ovvio che inseriamo e parzializziamo anche le componenti di tipo tecnico però noi dobbiamo sapere qual è il frangente fondamentale cioè non mi prendo il mal di testa su quelle che sono i frangenti di tipo tecnico in quelle fasi lì mi prendo il mal di testa e ci batto sopra per inserire nell'atleta nel giovane nel giovane che ancora in questo momento non è ancora atleta ma è un è sicuramente è recettivo su certi tipi di stimoli che poi dopo non potrò più fare tante volte ci si focalizza su per dire io parlo del settore della pallavolo perché lo conosco bene da tanti anni che ci lavoro per dirti per dirvi su il livello di capacità di esprimere la forza al servizio di qualcuno perché? perché ti permette di vincere le partite ma sai che c'è? ma chi se ne frega? logico che bisogna avere la forza la competenza tecnica la forza inteso come dire la forza caratteriale di sostenere il progetto perché se qualcuno vi affida a un gruppo voi siete responsabili di quel gruppo e dovete essere in grado di motivare le scelte questo è importante perché allora il problema non è gli ambienti le società le società vanno assolutamente indottrinate perché voi siete gli specialisti chi fa il presidente faccia il presidente lo farà per bene di sicuro ma io sono sul campo io so quali sono gli step precisi il problema è che noi non conosciamo gli step precisi è questo i genitori sono il problema è viva però io sono solido sulle mie competenze sulle mie capacità per poter far sviluppare al massimo il potenziale del mio giovane atleta batti 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 lì a qualcosa ci cavi sempre perché sul volume di passaggio di persone di di giovani che arrivano sotto quelle che sono le nostre responsabilità sicuramente possiamo tirare fuori dei potenziali prospetti e allora lì i risultati ci daranno ragione però il metodo è fondamentale e poi quello che abbiamo scritto anche qui la verifica dei risultati è una verifica dei risultati relativa quindi non è che devo vincere o perdere devo mostrare i miglioramenti su quella persona specifica su Carlo su Pietro su Maria su Francesca non è che se vinco sono il più bello e se perdo sono il più scarso però devo conoscere quello che è sicuramente il processo fondamentale va bene domande dubbi perplessità procedo vado avanti cosa mi dite siete ancora qui parlo da solo avete ovviamente poi piano piano nella mia idea soprattutto fino a quando saremo qui fino a quando saremo qua da remoto se poi è di vostro interesse possiamo andare a sviscerare quelle che sono le varie tematiche da indagare durante le varie tappe però questa cosa qui piuttosto me la dite anche voi non è che secondo voi potrebbe essere di vostro interesse andare nel dettaglio tappa per tappa sì bene no perché così almeno uno mi mi indirizzate anche voi ecco potrebbe essere ok 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 va bene va bene perfetto perfetto cerchiamo allora poi nelle prossime settimane cerchiamo di tirar fuori tappa per tappa alcuni punti fondamentali cerchiamo di andare a fare lo sviluppo di quello che si intende sulla capacità decisionale portiamo qualche esempio lo riporto facciamo un pochino di parallelismi vediamo un po' di dimostrarvi dimostrare quella che è la mia esperienza no cioè di portarvi un po' di idee a riguardo poi ripeto traslare su quello che è il vostro campo sempre però io per carità se queste cose vi possono essere d'aiuto volentieri me le metto a disposizione tanto sono centrali sulla metodica dell'allenamento che si chiami pallavolo che si chiami calcio che si chiami basket siamo sempre lì bisogna partire dalla base che è il corpo è l'uomo è la struttura è la capacità di apprendimento è la metodologia perché se no parliamo di niente se no parliamo di quello che sono i risultati di mio cugino che è andato alle olimpiadi però ha iniziato a vent'anni ma con tutto il rispetto per i vostri cugini campioni è un volume di popolazione un po' troppo basso per essere incidente in uno studio bene proseguiamo a questo punto nel nostro percorso di tipo tecnico invece per quello che riguarda la pallavolo cercare di fare un approfondimento su quelle che sono le prime correlazioni tra fondamentali abbiamo passato qualche giorno a parlare di bugger adesso possiamo iniziare a dividere il bugger in alcuni tipi di frangenti che verranno poi denominati in maniera differente possiamo dividerle già intanto in tre grosse categorie di applicazione di questo specifico fondamentale il bugger che si chiama di ricezione il bugger di difesa e il bugger di appoggio allora partiamo da quello che abbiamo già visto e ve lo mostro qui non ce l'avevo qua ah no devo cambiare scusatemi solo un secondo abbiamo detto era qui mi sembra l'abbiamo già visto però eccoci qua eccolo qua questo quello che abbiamo già visto nella passata settimana è un bugger di appoggio lasciate stare che la palla arriva dallo stesso campo ma è quello che viene definito bugger di appoggio perché semplicemente è un passaggio al mio compagno su una palla che viene definita libera è una palla semplice utilizziamo il fondamentale per passare il pallone normalmente al palleggiatore che andrà a costruire l'azione di attacco poi però abbiamo due tipologie di bugger differenti che caratterizzano e di cui non abbiamo ancora parlato perché non ci siamo ancora addentrati uno è un bugger di tipo di ricezione e il bugger di ricezione arriva è quello che l'atleta organizza dopo il servizio avversario e poi c'è il bugger di difesa che è il bugger in cui l'atleta chiamato in causa organizza dopo un colpo d'attacco dell'avversario quindi appoggio palla facile free ball libera passaggio al palleggiatore ricezione è il bugger che applico durante la fase del servizio e difesa è quando il mio il mio avversario ha attaccato e io devo organizzare la mia difesa con il bugger oggi noi parliamo di questa cosa qui rapidamente ma ci addentriamo soprattutto sul bugger di ricezione che è correlato a quello che è il servizio queste cose qui vi conviene comunque seguirle perché poi saranno l'oggetto probabilmente anche di quella prova pratica di cui vi parlavo la settimana scorsa ok quindi avere un'infarinatura di quello che c'è da fare e poi comunque sempre un buon lavoro di analisi e di utilizzo appunto di questi fondamentali per per fare comunque sviscerare una didattica anche poi su quelli che sono alcune parti del fondamentale dei vostri sport specifici qui vi mostro come cerchiamo di lavorare sulla capacità di colpire il pallone dal basso perché il primo fondamentale di servizio è dal basso su quelle che sono le nostre giovani vedete che la posizione in ginocchio cerca di minimizzare tutti quelli che sono i movimenti accessori rispetto alla al colpire il pallone e cercare di passarlo alla compagna qui abbiamo alcuni aspetti che sono comunque centrali e ci ritroviamo rispetto al lavoro delle passate settimane dopo vi chiedo qualcosa però il punto è l'obiettivo è quello di colpire il pallone al centro o meglio nel baricentro della sfera in maniera che vada dritto alla compagna che sta facendo assistenza senza però dover utilizzare in alcun modo e concentrandosi unicamente su quello che è il lavoro di impatto del braccio quindi dell'avambraccio già sensibilizzato nelle fasi precedenti e poter costruire quello che è il passaggio alla compagna stessa domanda per voi dai facciamo un po' di di talk qual è la capacità coordinativa che viene anche esaltata a questo punto se devo passare il pallone alla mia compagna che mi sta davanti qualcuno che ci prova dai ne abbiamo parlato quindi sicuramente c'è una componente di tipo fisico che è quella dell'impattare il pallone nel punto corretto cerchiamo di farne un esercizio invece che analitico super analitico di cui abbiamo già parlato le altre settimane quindi prendiamo in considerazione un'unica parte del fondamentale però qual è quella capacità che mi fa applicare la forza giusta per fargli passare la palla alla mia compagna qual è il processo bravo brava scusami brava Miriana giusto corretto altro che cosa facciamo invece per calcolare la lunghezza che cosa abbiamo fatto che cosa fanno le giovani under 11 in questo caso comunque la risposta l'avete in chat discriminazione cinestesica corretto quindi la capacità del sistema di applicare una forza per fargli compiere un compito in questo caso il compito è passare la palla a quella distanza giusta come calcoliamo la distanza attraverso che cosa dai ragazzi questa è facile occhi certo gli occhi l'analisi della profondità è assolutamente frontale se noi non lavoriamo con gli occhi abbiamo mille riscontri di questo tipo di processo la memoria muscolare è corretto e è assolutamente anche corretto perché ci deve lavora in come dire correlazione a quelle che sono tutti esatto oculo manuale è giusto è giusto è giusto è giusto è corretto lavora tutto insieme in una fase di analisi che dura frazioni di secondo dove gli occhi calcolano la distanza la memoria muscolare ricorda il peso del pallone la discriminazione cinestesica applica la forza giusta per fargli compiere il tragitto che ci interessa e poi il la diciamo l'apparato muscolo scheletrico viene chiamato in causa per far sì che ci sia quel movimento d'impatto che permetta al pallone di impulso di arrivare alla compagna stessa questo è quello che succede questo è quello che voi dovete vedere non dovete vedere una bambina che passa una palla certo che poi vedete la bambina che passa la palla alla compagna ma è l'analisi che allora ti farà la differenza perché se poi tu non riesci a fare questo tipo di analisi tu continuerai a dirgli ma colpisci più forte e invece dovrai andare a sviluppare quelle che sono quelle caratteristiche lì perché loro capiscono soltanto che la palla va lì o non va lì sei tu che fai il tecnico loro fanno l'under 11 quindi insomma capito che tra le due parti direi che siamo noi che dobbiamo portare la soluzione loro la mettono in opera ok quindi quello che avete detto è assolutamente corretto prendetelo sempre come idea iperanalitica e in questo caso qui abbiamo anche in realtà poi un altro discorso da tenere in considerazione quando entriamo su un discorso di esercizi superanalitici ci andiamo non soltanto per esaltare quello che il movimento che vorremmo che imparassero quindi in questo caso colpire la palla dal basso con la forza giusta per farla arrivare alla compagna ma anche quello di limitare tutte le movimentazioni accessorie quindi quello di limitare tutti i movimenti accessori che potrebbero essere chiamati in causa per adattamenti per diciamo più che adattamenti compensi di movimento che ci sporcano il movimento e ci permettono e non ci permettono di far sì che la palla vada lì ok quindi ripeto più facile quando e se riusciremo a lavorarci però è facile che in certi momenti per enfatizzare la forza del colpo per aumentare la velocità di impatto per far far più distanza alla palla per semplicemente semplicemente far passare la palla oltre il nastro della rete e farla arrivare nel campo avversario in certi casi ci si scompone e per assurdo si va si va a magari seppur applicando un volume di forza superiore a non centrare ugualmente l'obiettivo perché? perché la forza viene applicata nelle condizioni errate e questo non ci permette di centrare il target quindi nel caso specifico passare la palla alla compagna nel caso più ampio è quello di passare il nastro della rete ok? passiamo oltre e andiamo qui eccoci qua questo è la prima parte lasciate stare che l'allenatore parte dal campo e colpisce come se fosse una battuta dal basso però è la prima idea di costruzione che anche un atleta di serie A utilizza come warm up ovviamente per lavorare sullo spostamento sulla lettura della traiettoria e alla stessa maniera di iniziare piano piano a ripeto noi a lavorare su situazioni di riscaldamento di attivazione per i giovani atleti e già allenamento stesso di organizzare quello che diventerà il bagger di ricezione vedete come l'atleta si sposta cerca di leggere la traiettoria più alta o più bassa per poter organizzare uno spostamento coerente e poter indirizzare la situazione e portare i piedi dietro la linea del pallone vedete in questo caso lettura sbagliata la palla passa e non arriva nel target questi sono esercizi banali se vogliamo ripeto la mia squadra li fa in una fase di riscaldamento però è quello che passa tra il momento della ricezione sulla didattica della ricezione e sulla costruzione dei vari fondamentali quindi sulla capacità di ricevere il pallone e spostarsi in maniera adeguata portando il pallone e trovandosi nella condizione corretta in più ci mettiamo che la palla arriva sia da una condizione frontale che una condizione diagonale e questo tipo di sistema ci permette di vedete questi sono già adattamenti nell'ultimo caso leggermente in ritardo non abbiamo letto in maniera corretta lo spostamento e se avessimo dovuto organizzare il fondamentale non saremmo stati probabilmente così puliti nell'esecuzione e questo e questo è una prima prima fase di sistema di quello che verrà poi chiamato cambio palla o side out quindi le azioni che partono dal servizio degli avversari abbiamo la componente servizio in particolare dal basso perché è quella più facile e immediata l'organizzazione dello spostamento del bugger e poi ci sarebbero le varie evoluzioni che saranno poi il bugger stesso che ovviamente la capacità di organizzare il fondamentale su una disponibilità variabile leggendo le traiettorie chiamando in causa quelle che sono le abilità motorie che abbiamo già costruito per poter far sì che l'attività possa perché il fondamentale abbia un buon esito quindi che il rimbalzo del pallone sull'avambraccio vada nei pressi del mio palleggiatore che organizzerà l'azione d'attacco della mia squadra l'evoluzione di questo principio passa poi ovviamente per tecniche più evolute di servizio e per andare avanti qui abbiamo vabbè vediamo un po' servizio servizio dall'alto piedi a terra lasciate stare che i miei colleghi sono da da dentro al campo prendetela per come è cioè questa qui è un'esercitazione di tecnica di base per una squadra evoluta però vedete come è evidente che la palla ha una traiettoria molto più aggressiva rispetto a quelle proposte in precedenza guardate dove passa sul filo della rete è evidente fin da subito che in questo tipo di condizione ho molto più tempo per organizzare la mia la mia risposta rispetto a il servizio vediamo se ne becco ancora qualcuno ecco qui addirittura siamo poi su una situazione ancora poi di coppia sempre passando però dal servizio dall'alto piedi a terra qui stiamo lavorando su già un'idea un po' più integrata e in avvicinamento a quello che è il sistema di ricezione del servizio avversario di squadra con quelle che vengono poi definite delle competenze e e passiamo quindi da una dimensione di tipo singolo quella che vedete nell'altro campo rispetto a quella che può essere una dimensione di tipo di coppia col servizio piedi a terra parlando poi di evoluzione andando sempre più avanti nella capacità tecnica vi mostro quest'altro filmato in cui vedete servizi di livello evoluto quello che viene definito il servizio salto float dove concentratevi unicamente sulla velocità di palla e dove passa il bugger che viene organizzato sarà un bugger organizzato per la ricezione vedete subito che in certi casi la qualità del servizio mette in difficoltà il ricevitore stesso altro tipo di servizio la battuta salto spin si chiama si chiama spin perché la palla ruota e si abbassa verso la linea del campo molto più simile a una condizione di attacco questo tipo di servizio fa sempre più parte di un'evoluzione moderna della della pallavolo quindi siamo verso già un'età più evoluta anche nella pallavolo femminile questa è la divisione femminile ma se guardiamo adesso più avanti la divisione maschile abbiamo l'utilizzo sia della della battuta salto float ma in particolare della battuta salto spin con tipi di lanci differenti dove adesso vedrete questo per esempio è un palleggitore americano che batte lanciandosi la palla con la mano sinistra questi sono sempre dettagli sul tipo di lancio ma poi ne parleremo più avanti iniziate a guardare il lancio di braccio destro inutile dire che ognuno ha la propria tecnica vedete nella pallavolo evoluta come ci sono tanti movimenti che cambiano e variano su quello che è il movimento stesso ma poi entriamo nel dettaglio più avanti però quello che ci interessa è guardate la velocità di palla e il tempo necessario per l'organizzazione della della ricezione stessa eccola questa qui immagine che volevo farvi vedere per mostrarvi da dietro qual è il tempo necessario per reagire qui parliamo di palloni che passano oltre i cento e venti centotrenta chilometri orari guardate l'arco dorsale che applica il giocatore per scaricare la potenza va bene quindi abbiamo una serie di tecniche di servizio dalle più semplici alle più evolute le cose importanti da iniziare a capire che abbiamo una capacità di di servizio che arriva che è un fondamentale che ha una sua evoluzione in funzione di quelle che sono ovviamente le capacità fisiche coordinative degli atleti e vengono caratterizzati in maniera diversa quindi è un po' un modo diverso di interpretare il tipo di fondamentale a diversi livelli lo stesso tipo di principio ci fa cambiare leggermente la caratterizzazione la dizione del fondamentale del bugger in quella specifica fase del gioco che diventerà la fase del cambio palla e quindi bugger di ricezione in particolare per quanto riguarda queste prime questo primo approccio primo avvicinamento la cosa che ci preme imparare sono per quanto riguarda l'esame un bugger di appoggio un bugger di difesa e un bugger di ricezione il bugger di ricezione è quello che viene organizzato dopo il servizio il bugger di difesa è quello che viene cercato di organizzare come fondamentale dopo un attacco degli avversari il bugger di appoggio è quello che arriva dalla palla libera dalla free ball un tentativo di passaggio preciso su una palla facile che dovrà andare perfettamente in testa al palleggiatore che organizza l'azione ovviamente ovviamente tutte queste varianti sono dipendenti dal grado di gioco qui avete visto da uno sviluppo tecnico che parte da un allenamento tecnico specifico di una serie A2 fino ad arrivare servizi in salto float servizi in salto spin di categoria nazionale assoluta nella divisione femminile fino ad arrivare all'ultima immagine degli uomini delle finali di Champions League quindi massimo grado europeo e ovviamente questo ci fa capire quanto è la velocità e la capacità e soprattutto l'esigenza e l'evoluzione tecnica che può avere che possono avere i fondamentali correlati quindi servizio ricezione e servizio bug questo per ricordarvi poi sempre sulla progressione didattica di cui abbiamo già parlato la passata settimana che l'obiettivo è sì prima costruire il fondamentale ma poi integrarlo in una disponibilità variabile poi integrarlo all'interno di un sistema che ci porti sempre più vicino a un sistema di gioco e per questo abbiamo bisogno di quello di cui abbiamo parlato tutta stamattina capacità coordinative capacità anche condizionali per quello che riguarda l'alto livello seniores e soprattutto l'inserimento degli stimoli corretti nei periodi giusti è inutile che faccio costruire un servizio dall'alto a delle bambine under 10 che non riescono a fanno fatica a controllare il loro corpo per un servizio dal basso è evidente è evidente più o meno in alcuni casi è un po' meno evidente però è necessario basta direi basta di cose se ne sono già dette di oggi un bel po' avete domande dubbi perplessità a riguardo di tutto di tutto quello che si è detto stamattina per il momento no bene ovviamente come al suo tutto chiaro bene bene ovviamente ragazzi resto a disposizione anche se poi ovviamente adesso cerco di mettervi a disposizione la call della passata settimana in maniera che possiate anche riguardarvela eventualmente e se avete dei dubbi delle domande di perplessità rimango ovviamente a disposizione per fugarle e altra cosa penso cercherò visto che adesso abbiamo deciso mi sembra di aver capito che ci proiettiamo verso un periodo in cui almeno fino a quando saremo chiusi in casa di fare lezioni frontalmente così probabilmente cerco di mettere in piedi un unico link così è inutile che vi mando ogni settimana un link e io devo crearne sei cinque quello che è vi manderò un unico link spero di riuscire a fare questa settimana un unico link dove voi vi collegate e facciamo una fruizione sempre frontale sempre quella non dovete andarvi a incasinare a ricevere cento mail cento cose per per poter vedere la lezione frontale che tanto è sempre quella tra di noi e come al solito poi faremo una sorta di cerco sempre di mettervi il la lezione sulla sul moodle che così avete tutti i contatti anche lì e eventualmente così anche chi non potesse seguire per vari motivi per vari per varie situazioni differenti che magari sono extra accademiche potete comunque venire a seguire un'altra lezione tanto le lezioni che teniamo sul secondo anno sono quelle ovviamente cerchiamo di stare nel giorno e orario prestabilito però eventualmente se qualcuno dovesse volesse recuperarla durante il corso della settimana può recuperarsi oppure comunque rivedersela in separata sede in indifferita ok altro mi sembra che non vi devo dire nel caso ci fossero delle cose vi mando delle comunicazioni vi manderò una mail vi manderò qualche cosa se non c'è altro vi congederei vi auguro una buona settimana iniziate a riflettere su quelli che sono gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi iniziate a pensare se per chi di voi già allena sta e aderente almeno parzialmente a quelli che sono dovrebbero essere i focus su un'attività in particolare giovanile iniziate ad analizzare la capacità e esaltare la capacità di trovare quello che è la componente che ci fa far la differenza quindi un buon alleatore non è quello che vede cento problemi tutti vedono cento problemi un buon alleatore è quello che individua in termini di priorità la cosa su cui intervenire che mi dà riscontro migliore nell'unità di tempo più breve quindi il fattore discriminante che mi fa variare con quell'unica pedina con quell'unico dettaglio che riesco a variare avere un incremento di prestazione sia che si parli di singoli sia che si parli di gruppo c'è quella famosa regola dell'80-20 dove si dice che il 20% degli interventi dà l'80% dei risultati ok e questo è valido in tutti i campi della vita quindi dicono che il 20% dei tuoi clienti ti darà l'80% del tuo fatturato il 20% di incremento di quelli che sono i tuoi atleti ti darà l'incremento dell'80% dei tuoi risultati di squadra il 20% delle capacità di un vostro singolo atleta darà l'80% di miglioramento del singolo atleta stesso e così via essere in grado di individuarlo diventerà centrale e fondamentale per poter far sì che le persone migliorino che poi è quello il target finale se non c'è altro vi saluto direi che possiamo congedarci e ci aggiorniamo alla prossima settimana vi faccio sapere se riusciamo a fare tutti su un link solo e tenerci questo va bene? grazie a voi ragazzi ci ci teniamo aggiornati resto a disposizione per tutto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti